Sì, è una realtà molto importante, è una collaborazione tra il Dipartimento di Salute Mentale e la scuola. In questo caso i ragazzi hanno realizzato dei disegni con il tema del sogno e questi disegni sono stati portati per abbellire i muri del reparto SPDC dell'ospedale San Paolo di Savona, cioè il servizio psichiatrico che risponde alle esigenze più acute della malattia prima dell'inserimento della persona a domicilio oppure nei servizi territoriali. Io ho ringraziato oggi i ragazzi per queste opere che sono stupende che oltre ad abbellire il reparto danno anche un significato, portano vita all'interno di un reparto che per naturalmente esigenze sanitarie è un reparto chiuso ma che è un reparto assolutamente transitorio che risponde ad una fase acuta della malattia poi è necessario che queste persone ospitate in questo reparto trovino un'accoglienza all'esterno, dei servizi all'esterno, una città all'esterno, un territorio all'esterno che li accolga e li aiuti nel percorso di miglioramento e in alcuni casi, come sappiamo, anche di guarigione e di remissione della malattia. Grazie Grazie Grazie